Amici di Onda Libera TV siamo a Fano, nella sede Ampi, dove si è appena conclusa la presentazione del libro di Rizzo, Il golpe europeo, presentazione fatta da Denis Valenti, sempre membro del direttivo del Partito Comunista, perché per vicissitudini personali Rizzo purtroppo non è potuto partecipare. Però c'è comunque stata una presentazione del libro molto articolata e molto chiara. Allora, colpe europeo, perché colpe europeo? Colpe europeo perché noi abbiamo assistito con la costruzione dell'Europa delle banche e della finanza alla sottrazione di sovranità del popolo che non ha più né il potere decisionale né anche più il potere politico di decidere chi possa rappresentarlo e chi gli possa fare le leggi. Ci hanno sottratto e i soldi e la libertà. Soluzioni a questo dramma? Perché ormai possiamo definirlo dramma, diciamo. È un'autentica apocalisse sociale, basta vedere i dati sul lavoro, oltre il 40% della disoccupazione giovanile. Noi pensiamo che la soluzione sia uscire dall'Europa delle banche di Maastricht e costruire un'alternativa di popolo che è fatta attraverso la costruzione del socialismo. Bene. E per il futuro come lo vedi? Con ottimismo o con pessimismo? Che probabilità ci sono che si riesca a fare, ad attuare questo progetto? Noi pensiamo che il futuro dell'umanità sia il socialismo e pensiamo che la sconfitta del comunismo sia stata la sua revisione, che il socialismo sia un pensiero attuale e moderno e che penso che in pochissimo tempo, penso in un paio d'anni, sia possibile costruire un partito comunista di massa che sappia parlare alla nostra gente, al popolo e agli operai. Bene. Grazie di questa testimonianza. Amici di Onda Libera, un saluto. Grazie.